Europa sì, ma un'Europa diversa e migliore contro quelli che l'Europa oggi vorrebbero candidarsi a guidarla perché è la prima volta che la destra, destra-destra radicale, estrema, vorrebbe arrivare a guidarla sono gli stessi che hanno cercato in questi decenni di demolirla e se pensiamo al nostro paese non eravamo certo io o noi che giravamo ad esempio con le magliette no euro i nomi sono quelli che discutete e vedete tutti i giorni anche sulle cronache sono figure abbiamo amministratori e amministratrici bravissimi che hanno saputo guidare le loro comunità abbiamo europarlamentari uscenti, donne e uomini molto bravi abbiamo altre personalità che nel campo della cosiddetta società civile o di quello che hanno saputo dimostrare nel corso di questi anni negli impegni che avevano, gli istituzionali e noi hanno garantito grande qualità quindi insomma siamo convinti di poter dare un ottimo contributo alle liste in questo caso ovviamente del nord-ovest